Ma sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab&Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it Abbiamo finito con cinque attaccanti e due trequartisti. Alla faccia dell'equilibrio di tutte le filosofie che vengono messe in campo, Ranieri è stato molto più spartano. E a un certo punto ha fatto quello che molte volte tutti i tifosi vorrebbero che si facesse. Ha messo tutti gli attaccanti che aveva a disposizione nel tentativo di riuscire a vincere. Ma prima era stato molto acuto nel primo cambio, quando ha fatto entrare gli altri due attaccanti per passare al 4-2-4. Perché è stato acuto? Perché ha approfittato della leggerezza del tecnico suo collega. Nel momento in cui c'erano due difensori centrali gravati di cartellino giallo, era facile prevedere che se tu mettevi dentro gli attaccanti, i difensori non potevano essere così tanti anche in panchina. E stavi inducendo quasi il tecnico avversario a dover mettere in campo altri difensori, quindi a spendere i suoi cambi e a dare un connotato ben particolare alla sua squadra. Ranieri è stato bravissimo a leggere questo. Perché la partita era una partita di quelle toste, di quelle che rischi di perdere non uno ma anche due a zero. E il Cagliari nel secondo tempo, ancora di più del Cagliari che era riuscito poi a trovare il campo dopo i primi dieci minuti terribili, stava soffrendo particolarmente la squadra del tecnico ospite di Dionisi, che stava riuscendo a tenere il pallino del gioco. Affidarsi ai lanci lunghi e non avere attaccanti finiva per essere un suicidio. Perché in quel momento, nel momento in cui c'è stato il cambio con l'ingresso di Pavoletti e a seguire di tutti gli altri, di Luvumbo, di Sciomulo, di Petagna, di Mancosu, per elencarli tutti, si è accorto che c'era bisogno di giocatori di peso. E c'era anche la possibilità che questi giocatori di peso in grande numero mettessero in difficoltà i difensori del Sassuolo. Così è successo. Non è successo subito, o meglio subito, è successa l'espulsione, che ha dato in là a continuare a pensare in questo senso, cioè continuare a pensare che inserendo attaccanti non potevi che o rischiare il 2-0, avresti perso comunque, o riuscire ad agguantare il risultato. E con la spinta del pubblico e con il grande carattere dei calciatori si è arrivati a questo. Da sottolineare alcuni principi eroici di questa battaglia, perché poi quando si usano i parametri, dei guerrieri, o quando si confondono i guerrieri con gli sportivi, ci sono dei valori comuni. L'ospito e il sacrificio, la voglia di combattere ad ogni costo. E in questo senso due sono i giocatori che hanno combattuto ad ogni costo, malgrado le vicende della partita. Il primo è stato Torsved che ha perso tre denti nello scontro con Sulemana. Il secondo è stato la Padula che nel momento in cui aveva praticamente il naso tumefatto e voluto rimanere ad ogni costo in campo, è stato proprio lui a firmare il gol del pareggio. Di Pavoletti cosa diciamo? Che praticamente viene fuori da qualche Olimpo, da qualche strana montagna. Cioè praticamente noi ci siamo esaltati con Conti e lui è il degno re di Daniele Conti in questo senso, con i gol che arrivano sempre nel tempo di recupero. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business.